Oggi ti volevo parlare di una cosa è molto importante che sicuramente farà felici tutti gli haters del mondo. Ora che sono gli haters? Sono quelli che come te t'affacci sul web ti trattano subito male perché magari hai messo una foto con un qualcosa che non torna no? Chiara Ferragni, quella brava ragazza e il suo marito Fedez erano stati attaccati da una persona che ormai tutti conosciamo per essere una famosa animalista Daniela Martani. Daniela Martani aveva scritto di Fedez e della Ferragni che erano due palloni gonfiati erano dei coglioni erano degli idioti. Praticamente il compleanno di Fedez dentro al supermercato questa festa con tutti e tanti tra l'altro amici loro e sprecano il cibo, lo buttano via. Questa Daniela Martani forse anche giustamente si era un po' risentita del fatto che in qualche maniera diciamo c'era stato un uso sbagliato dei media e del cibo soprattutto. L'unica storia che avete visto dove è stato sprecato del cibo è mia e mi assumo la colpa ho lanciato una foglia di lattuga quindi chiedo umilmente scusa. Pierlu, sai che noi spesso e volentieri parliamo degli Stati Uniti, spesso e volentieri parliamo delle mode che arrivano dall'America, spesso e volentieri parliamo della musica che arriva dall'America, spesso e volentieri parliamo delle tendenze che arrivano dall'America, va bene? Quindi non abbiamo importato solo tendenze, musica eccetera eccetera, abbiamo importato anche delle feste un po' particolari, per esempio una è Halloween che lo conosciamo tutti matti molto bene, ma alla fine di novembre c'è una festa che chiamiamola commerciale e poi è seguita subito da un'altra festa che è ancora più commerciale ovvero il Black Friday, questo Black Friday che è una buona occasione per andarsi a comprare qualche cosa perché effettivamente qualche cosettina si risparmia ed è un po' l'ultimo venerdì di novembre che serve un po' a lanciare il mese di dicembre e quindi la corsa al consumismo natalizio Pierlu noi si parte, Pierlu, te lo dico sempre Pierlu vieni anche te ma poi te no alla fine non vieni mai, sei troppo impegnato, Pierlu noi si parte, va bene? Ci abbiamo da fare questa serata in Colombia e allora partiamo da Firenze e andiamo a Bogotà quindi ci abbiamo a Bogotà, tre serate a Bogotà, poi ci abbiamo Medellin, due serate a Medellin poi abbiamo Cartagena, che bello mi fa molto, capito? Annibale, mi fa molto Annibale Cartagena Musica Never Lies